Ma è piccolissimo, che cosa vuoi che sappiamo? Mordere! Pimobà! Pimobà! Posse violenta di me! Lava ritornato. Sua grazia sembrava impazzito. Giurò che se non l'avesse avuta lui nessun altro l'avrebbe avuta mai. Stipulò un orribile patto col diavolo stesso. Di giorno, mi savo è il bellissimo falco che hai portato qui da me. E di notte, la voce del lupo che si ode è il grito di Navarro. Ruth Gerauer, Michelle Pfeiffer, Matthew Broderick, Lady Hawk. Domani sera 20.30 Italia 1. Duplichiamo Nesquik cereali? E questo cos'è? Volevo i cereali, non il coniglio! Mickey, ma sei tu! Che sarà quello vero? Io, io... C'è solo un modo per scoprirlo. Nesquik cereali! Il latte diventa un vortice ciocco Nesquikoso! C'è un solo picchi e un solo Nesquik cereali. Che rende il latte ciocco Nesquikoso! Dal nuovo Tarzan di Disney... Giochiamo a unire le figurine senza farle cadere? La catena più lunga vince! Quattro figurine in ogni pacco di Nesquik. Pepo, più mangi e più cresci. Ho fame! Dammi un biscotto! Il mio Pepo cresce e mi parla. Dammi la cioccolata! Come sei grande, Pepo! Pepo cresce, cresce. Cresce insieme a te. E' Jig. Con la fabbrica dei gioielli posso fabbricare i gioielli che mi pare. A me piacciono solo quelli della fabbrica dei gioielli. Uno più bello dell'altro! La fabbrica dei gioielli è un vero gioiello ed è solo Jig. Shetro! Sprigione i tuoi poteri magici! Trasformati in Sakura! Lo Shetro è musicale, luminoso e dice formule magiche. Shetro! Aiutami a sconfiggere il mar! Sakura Parlante e il magico Shetro sono... Giochi preziosi! Ciao! Giochiamo insieme! Quale parte del corpo serve per mangiare? Eh? Ah ah! Esatto! Topo Gigio Domandino! L'amico che insegna a conoscere le diverse parti del corpo. E sono giochi preziosi! Accendi i tuoi piedini o tu canterà! Ascolta il motivetto che balla ti farà! Ti senti trasportare dalla voglia di ballare! Che ballo solo è questo qua! I piedini ballerini non si fermano mai! Tu balla il motivetto fino a che non ti stanchi! Otto e Betta cantano! Segui il ritmo dei piedini ballerini! Gli si accendono i nasini! Un piede dice qui! Un piede dice là! Balliamo insieme il ballo! Che ridere ci fa! Impala il motivetto e balla finché puoi! Otto e Betta e i piedini ballerini! Gioca con Zaina! Big Bubble è diventato Mega! Fuori misura per palloni fuori di testa! Action Man il più grande del mio... Dottor Inx sta facendo esplodere una mega petroliera! Inquinerà l'oceano! Ma col suo sottomarino super equipaggiato... Action Man blocca la nave! E con un missile subacqueo mette fuori gioco Dottor Inx! Action Man Ocean Mission! Da Hasbro! Micro Machines i carabinieri! Il blindato è grande! Si apre e diventa base strategica! Senti! In caserma suona l'allarme! Ok! Pronti per giocare! Il grande blindato base strategica dei carabinieri Micro Machine! Le originali! Apro! Yo-Yo Skipper Sam Star! Una campionessa con lo Yo-Yo! Ehi Skipper! Qual è il segreto? Della tua moda! Lo Yo-Yo è un grande look! Ecco la mia moda! Yo-Yo Skipper! E le sue amiche con le mascotte sono ancora più belle! Cambia vestito per la sera! Wow! Che look! Sei perfetta! Sempre! Yo-Yo Skipper! Sei ok! Anche quando balli non smetti mai! Yo-Yo Skipper! Tanta moda! E uno Yo-Yo tutto per te! L'incantesimo del lago Mercoledì alle 20.45 Su Italia 1 Fred che cosa stai facendo sulla scala? Che cosa stai facendo la scala? Lano